Mi chiamo Giacomoni Pierpaolo, sono assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università di Ferrara. La ricerca di cui mi sono occupato si intitola il ciclo profondo del sistema COH mediante lo studio dei noduli di mantello e delle lave primitive della Terra Vittoria Sittentrionale in Antartide. Gran parte della ricerca è stata effettuata in collaborazione con l'Università del New Hampshire nei laboratori del Woods Hall of Oceanographic Institute e del Rensselaer Polytechnic Institute negli Stati Uniti. Lo scopo della ricerca è stato quello di ricostruire il budget di carbonio, idrogeno, ossigeno dalla Terra profonda, quindi dal mantello, fino all'atmosfera. Per fare questo è fondamentale ricostruire il contributo del vulcanismo all'emissione in atmosfera delle specie molecolari costituite appunto da carbonio, idrogeno, ossigeno. Il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra da diversi anni collabora col Piano Nazionale di Ricerca Antartide con il quale abbiamo eseguito due spedizioni alla base Mario Zucchelli di Baia Terra Nova. Durante queste spedizioni abbiamo campionato gran parte delle lave eruttate dai vulcani cenozoici lungo il rip transantartico. Alcune di queste lave trasportano noduli di mantello. I noduli di mantello non sono altro che brandelli di mantello e sono l'unico modo che abbiamo per studiare la composizione chimica e mineralogica della terra profonda del mantello che costituisce il 70 per cento del nostro pianeta. La ricerca in particolare eseguita in collaborazione con l'Università del New Hampshire è stata quella di misurare il contenuto di carbonio, idrogeno, ossigeno nelle inclusioni vetrose contenute all'interno di cristalli contenuti nelle lave appunto eruttate dai vulcani antartici. Molte delle lave contengono olivina, l'olivina è un silicato di ferro e magnesio. Quando questa cristallizza nelle lave può in alcuni casi intrappolare piccole gocce di magma che sono come piccoli campioni della composizione primaria del magma che può essere cancellata o obliterata durante appunto l'eruzione vulcaniche. Quindi abbiamo isolato dalle rocce i cristalli, li abbiamo inglobati in una resina osservati al microscopio ed analizzati prima con una microsonda elettronica e poi con una microsonda ionica al Woods Hole Oceanographic Institute. La problematica principale nel voler misurare le concentrazioni di carbonio, idrogeno e ossigeno nelle inclusioni vetrose è quella che durante l'eruzione vulcanica, durante l'emissione di queste lave, le inclusioni ricristallizzano, quindi non hanno più una composizione omogenea. Per omogenizzare le inclusioni vetrose mi sono servito dei laboratori del Rensseler Polytechnic Institute di Troy, nello strato di New York, dove i cristalli sono stati inseriti all'interno di pistoni cilindrici e riamogenizzati ad alta pressione, a 6 kB a 1300 gradi per circa un quarto d'ora. Solo dopo questo passaggio molto importante, l'inclusione vetrosa ha un aspetto omogeneo e può essere analizzata, come è stato fatto nei laboratori del Woods Hole Oceanographic Institute, attraverso una microsonda ionica che è lo strumento attualmente più preciso che ci consente di misurare non solo la concentrazione di carbonio, idrogeno, ossigeno, fluoro e zolfo, ma anche la speciazione isotopica di questi elementi. I risultati ottenuti dalle analisi eseguite presso Woods Hole Oceanographic Institute sono di grande interesse e sono stati attualmente sottomessi in due articoli scientifici e verranno presentati al prossimo European Geoscience Union Congress che si terrà a Vienna il prossimo aprile. Le ricadute di questa ricerca sono principalmente due. La prima riguarda la valutazione del contributo del vulcanismo alle emissioni in atmosfera di CO2 che è, come tutti sapete, il principale gas serra e comprendere il contributo del vulcanismo al budget globale di CO2 è fondamentale per calcolare qual è il contributo antropico ai cambiamenti climatici. La seconda ricaduta della ricerca è più strettamente vulcanologica e sicuramente più ricca di implicazioni per il nostro paese ed è quella dell'aver studiato i processi di arricchimento, migrazione e dissoluzione dei volatili, quindi appunto degli elementi COH all'interno dei magmi. Gli elementi volatili sono la principale causa scatenante di innesco delle eruzioni vulcaniche, sia in vulcani di chimismo basaltico come l'Etna o Stromboli, sia in vulcani più pericolosi come il Vesuvio. Quindi comprendere qual è la concentrazione di elementi volatili nei magmi, la loro migrazione, la loro concentrazione e la loro modalità di soluzione è di fondamentale importanza per fare dei modelli di innesco delle eruzioni e per mitigare il rischio vulcanico del nostro paese. Grazie a tutti!